ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per questo weekend evento che si tiene da rockstar dal 10 al 12 luglio diciamo non diciamo è così senza diciamo e questo evento ci porta tanti bonus rp doppi soldi doppi e tante altre cazzate allora qui vediamo la locandina per intero ma adesso vi farò vedere comunque suddivisa in pezzi come state vedendo ci sono bonus a go go qui si parla di rp doppi insomma un sacco dei cazzetti poi potete andare anche voi a vedere nel social club rockstar e andare a vedere questa notizia e niente ragazzi io ho voluto informa per chi non lo sapeva e vi faccio vedere anche un'altra piccola cosa per chi magari non l'avesse notato e nello santos custom abbiamo un articolo gratis che ci viene diciamo regalato per questo weekend evento in pratica se andate nelle verniciature noterete tra i metallizzati anzi non tra i metallizzati tra i metallici scusate ragazzi che le verniciature dorate sono gratis voi vedete vabbè ma chi cazzo se la fa la macchina d'oro vabbè comunque o la fate o non la fate la macchina d'oro avete questa verniciatura gratis insomma non è poco avete la possibilità di installarla allora per chi non è a livello 100 giustamente la notizia è rilevante però magari se vi mancano vi mancano vi mancano un paio di ranghi ogni tanto la stronzata la devo dire vi mancano un paio di ranghi potete fare tranquillamente perché c'è sta cosa degli ero di doppi quindi ragazzi approfittate questo è un modo che ci dà rockstar sia per sapere di quello che per guadagnare soldi non abbastanza legale è stra legale perché giustamente è un weekend evento indetto da rockstar quindi approfittate tutti di questa cosa i ranghi bassi i ranghi alti insomma fate più gare che potete fare più eventi più elenchi partita che potete insomma bene per questo video è tutto un saluto a maxi al prossimo video